Ben ritrovati amici di Auto Occasioni, oggi una puntata davvero speciale, direi inedita qui in gruppo V Auto in Corso Giulio Cesare 320 e con me Marco Di Matteo, ciao Marco ben ritrovato Ciao Elisa, è un piacere averti qui, un saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa hai detto proprio bene, evento imperdibile, si chiama Play Hybrid Tour Honda HR-V il nuovo crossover che è disponibile finalmente in tutte le sedi Honda, ovviamente del gruppo V Auto solo per questa settimana un'anteprima davvero imperdibile infatti abbiamo fatto girare la vettura per tutte le nostre sedi in anteprima nazionale sarà possibile vedere e toccare con mano la nuovissima Honda HR-V come dicevo un importante evento proprio in Corso Giulio Cesare 320 a Torino per parlare di questa bellissima super protagonista, un SUV coupé veramente compatto e sportivo assolutamente, hai detto benissimo, è un grande evento che abbiamo dedicato a tutti i nostri clienti ma soprattutto è un'anteprima nazionale perché questa vettura che aspettavamo da tanto finalmente è visibile qui da noi in concessionaria per questo grande evento che si chiama Play Hybrid Tour ma ovviamente possiamo farla vedere ai torinesi non solo qui da noi tu sai dove la facciamo vedere? quindi da Piazza, Piazza Vittorio assolutamente, Piazza Vittorio vi aspettiamo perché l'auto sarà esposta sia qui in concessionaria ma anche ai piedi della gran madre al Bar Blanco che ringrazio una collaborazione con loro avrete la possibilità di toccare con mano questo splendido SUV coupé e allora seguiteci ultima tappa del Play Hybrid Tour e vediamo il nostro Marco Di Matteo arrivare a bordo di questa bellissima nuova Honda HR-V Full Hybrid ciao Marco ciao Elisa siamo in una cornice davvero splendida grazie alla collaborazione con Blanco ci troviamo in Piazza Vittorio e presentiamo la star della serata che si chiama Honda HR-V Full Hybrid ovviamente allora andiamo a scoprire da vicino tutte le caratteristiche di questa bellissima vettura assolutamente questo è un crossover totalmente nuovo è un crossover che ha le linee davvero pregiate del SUV coupé infatti si nota subito dalle sue nuove linee che abbiamo un frontale molto più robusto con una mascherina stilizzata con i nuovi fari full LED a firma che conferiscono alla vettura tanta eleganza, tanto stile la parte laterale dell'auto è davvero eccezionale perché è spiovente nella parte posteriore quindi gli dà davvero il carattere del SUV coupé nella parte poi posteriore abbiamo tutta la falaneria che abbraccia il portellone posteriore e soprattutto che va a dare un'idea di stile e di un design davvero unico andiamo a scoprire gli interni di questo bellissimo SUV coupé entrando a bordo della nuova HR-V si nota fin da subito la qualità dei materiali utilizzati un layout davvero incredibile e soprattutto minimalista ma molto elegante al centro della plancia campeggia un grande display da 9 pollici abbiamo un quadro strumenti da 7 pollici digitale e la classe e l'eleganza è quello che contraddistingue proprio questa vettura anche per quanto riguarda la climatizzazione è davvero unica perché abbiamo delle bocchette ADL che rendono davvero un confort termico per tutti gli occupanti per tutti gli amanti dell'infotainment ovviamente a bordo della vettura non poteva mancare CarPlay e Android Auto tecnologia ai vertici ma anche una sicurezza davvero ai vertici perché abbiamo già il sistema ad ascensing di serie su tutte le versioni sicurezza al 100%, cruise control adattivo, mantenimento di corsia attiva questi sono solo alcuni dei dispositivi che trovate a bordo di questa vettura che oltre che essere bella vi dà davvero sicurezza al 100% ma non è finita qui perché quello che davvero cambia su questo nuovo crossover è il suo cuore parliamo di un cuore pulsante full hybrid un motore VTEC da 1,5 litri un motore che ha due motori elettrici in abbinamento perché? perché l'auto viene spinta dal motore elettrico mentre il motore termico cambia ruolo si comporta come un generatore di corrente è proprio questo quello che fa la differenza avere un'auto che si sposta nel ciclo urbano totalmente inelettrico senza però dover pensare alla ricarica l'avete vista in tutta la sua bellezza per questo io vi invito ad andarla a scoprire a toccare con mano e anche a provarla direttamente presso il gruppo V Auto in Corso Giulio Cesare 320 a Torino il punto di riferimento del brand Honda e ovviamente Marco con tutto lo staff sarà in grado di farvi assaporare il gusto di guidare questa bellissima vettura assolutamente ma soprattutto non perdete l'occasione di godere dell'incentivo che oggi Honda mette a disposizione ben 3.000 euro di eco bonus quindi si vuole risparmiare davvero tantissimo da subito sul prezzo di listino quindi approfittate di questa occasione perché se l'acquistate entro fine anno vi diamo già compreso anche la manutenzione per due anni e addirittura otto anni di garanzia davvero un'offerta imperdibile allora io Marco ti ringrazio e come sempre ringrazio tutti voi dalla bellissima Piazza Vittorio e tutto alla prossima puntata Grazie a tutti